pillole di non solo suoni la storia della musica passa da noi ben ritrovati oggi è con piacere che ospitiamo per la prima volta un artista il cui nome forse da solo non vi rievoca nulla ma associato a uno dei suoi pezzi più noti e tra l'altro più popolari ecco che tutto diventa più chiaro stiamo parlando di bill conti alias william bill conti nato a providence il 13 aprile del 1942 compositore e arrangiatore statunitense conosciuto soprattutto per il suo lavoro per colonne sonore cinematografiche alcune delle quali davvero famosissime oltre che per essere stato spesso direttore d'orchestra nelle cerimonie per la consegna degli oscar il brano che abbiamo scelto oggi per voi arriva dal 1976 quando appunto firmò gonna fly now ossia quella canzone che spesso viene accreditata come tema da rocky perché è parte portante diremmo della colonna sonora proprio dell'omonimo film per questo e in questa veste ottenne la candidatura agli oscar come migliore canzone originale oltre a un gremio award alla miglior performance strumentale pop come singolo è stata pubblicata nel 1977 e il 2 luglio di quell'anno raggiunse il primo posto della billboard 800 d'altro canto col tempo entrata a far parte della cultura degli stati uniti insieme al personaggio stesso di rocky balboa e peraltro non solo in america lo testimoniano i risultati anche nelle classifiche di altri paesi ad esempio è stata numero uno in italia complici anche le origini italiane proprio del personaggio di rocky balboa e dello stesso sylvester stallone così popolare numero uno anche in giappone forse più curiosamente numero 16 in irlanda 8 in canada 22 in nuova zelanda e 13 in australia molto bene andata nel regno unito non oltre la 52esima posizione il testo come detto è stato scritto dallo stesso bill conti insieme a carol connors e ain robbins mentre le voci sono di data little sorella dell'attore cleavon little e nelson pickford la musica è eseguita invece dalla band di minor ferguson che è anche il solista alla tromba dopo la prima apparizione in rocky la canzone è tornata nel secondo capitolo quindi in rocky 2 in una versione alternativa mentre in rocky 3 viene usata una versione disco music in rocky balboa invece la canzone ha due versioni differenti una remixata vocalmente da natalie wilde e l'altra con più trombe e tono vocale diverso abbiamo accennato alle origini del personaggio di rocky e di stallone ma anche conti come tradisce il cognome è di origini italo americane dopo la laurea alla louisiana state university ha anche lavorato per qualche tempo nel nostro paese ha realizzato tra l'altro gli arrangiamenti per le versioni cinematografiche della prima opera rock italiana orfeo 9 realizzata da tito schipa junior ha collaborato poi sempre in veste di arrangiatore con personaggi come ornella vanoni umberto bindi patti bravo pepino gagliardi alberto fortis poi il successo nel 76 proprio grazie al brano di oggi a cui però è seguito anche quello per la colonna sonora di fuga per la vittoria del 1981 mentre nell'84 ha ottenuto l'oscar con le musiche del film uomini veri negli anni 80 ha firmato anche colonne sonore per alcuni telefilm come falcon crest e dynasty tra le altre collaborazioni eccellenti anche quelle per altre pellicole come karate kid 2 3 e 4 e sorvegliato speciale eccovi allora gonna fly now